Ciao bimbi! Oggi voglio raccontare la favola L'Aquila colpita da una freccia. C'era una volta un'aquila che stava appollaiata sull'alto di una rupe, scluttando per cacciare lepri, ma un uomo aveva tale contro una freccia. La colpì e la punta le entrò nella carne. La coca con le pene le stava davanti agli occhi ed essa a tale vista esclamò, Davvero per me è un secondo dolore dover morire per le mie stesse pene. La favola dimostra che il pugnolo del dolore è più lanciante quando si debba soccombere per le proprie stesse armi. Ciao bimbi! Ci sentiamo nel prossimo video. Ciao, un bacio!